nel nostro mestiere si ricevono spesso lettere e non c'è cronista che non abbia fatto conoscere al pubblico qualche epistola dei suoi sconosciuti corrispondenti sto per imitare l'esempio tra queste lettere ce n'è di tutte le specie alcune ci blandiscono altre ci lapidano di volta in volta sei il solo grand'uomo il solo intelligente il solo genio il solo artista della stampa contemporanea oppure un vila individuo un furfante indicibile degno quantomeno della galera a vita per meritare questi elogi o queste offese basta avere o non avere la stessa opinione del lettore sul problema del divorzio o sull'imposta proporzionale capita spesso che sullo stesso argomento si ricevano le più clamorose felicitazioni o i più virulenti biasimi sì che alla fine dei conti diventa difficile farsi un'opinione su se stessi talvolta si tratta di lettere di venti parole tal'altra di lettere di dieci pagine in questo secondo caso per capirne l'importanza e il tenore basta leggere una decina di righe e poi buttare tutto nel cestino cimitero delle vecchie carte ma ve ne sono di quelle che fanno riflettere molto come questa per esempio che per coscienza rendo nota al pubblico ho detto coscienza ma forse non ho adoperato la parola giusta non v'è dubbio che la mia corrispondente è una donna che mi scrive è una donna che mi scrive non mi fa capace di una coscienza molto severa facendo vedere che mi incarico di compiti simili do persino prova di una mancanza di senso morale che forse mi sarà rimproverata mi sono anche domandato con un po' di inquietudine perché mai sono stato scelto tra tanti altri perché sono stato ritenuto il più adatto di tutti a rendere il servizio richiesto come si è potuto credere che non mi sarei ribellato poi ho pensato che il carattere leggero dei miei scritti avesse potuto avere una certa influenza sull'incerto giudizio di una donna e ho messo la cosa nel conto della letteratura ma prima di trascrivere qui qualche frammento tutti i frammenti necessari della lettera che mi è stata mandata è necessario avvertire i lettori che non mi burlo di loro questa lettera l'ho ricevuta davvero per posta con tanto di franco bollo sulla busta indirizzata a me e la lettera l'ha firmata sì signori firmata in maniera leggibilissima non cerco né di divertire né di abusare delle anime ingenue mi faccio interprete interprete poco scrupoloso lo ripeto di un desiderio di donna ed ecco il documento signore ho esitato a lungo prima di scrivervi non osavo confidarmi interamente a voi sento che siate buono generoso però quel che ho da dirvi è così strano insomma ho vinto il mio ultimo timore così doveva essere di fronte alla sventura ognora crescente di fronte alla miseria più nera non c'è timidezza che tenga la disgrazia come il pericolo la coraggio ai meno ardimentosi soprattutto non crediate scorrendo questa lettera che sia un po' pazza o semplicemente esaltata sono in pieno possesso di me ve l'assicuro il mio carattere d'altra parte non è romantico bensì serio e molto prosaico se così posso dire per finirla con le pene non vedo che una sola strada e questa strada io la prendo non vi pare naturale e sensato ma ecco di che cosa si tratta nonostante la mia povertà sono onesta appartengo a una onesta famiglia sono ancora giovane ho finito 22 anni e vi confesserò signore che mi vorrei sposare e più presto possibile non dico che la mia vita di ragazza sia per me un peso lungi da me questo pensiero ma sentite un po' quali sono le mie ragioni e vedrete che non ho torto niente affatto quando dico di voler rinunziare alla mia libertà la nostra famiglia è composta di puntini puntini seguono particolari piuttosto tristi sulla sua vita la precisione di questi particolari mi impedisce di trascriverli perché se cadessero sotto gli occhi dei genitori della mia corrispondente basterebbero forse a farlo riconoscere da loro tutto ciò che essa mi dice d'altra parte è assai lacrimevole e assai verosimile continuo la citazione se fossi sola non mi lamenterei troverei sempre da tirare avanti ho bisogno di così poco per me ma non sono sola devo pensare alla famiglia l'anno scorso ho conosciuto una ragazza un'orfana senza alcuna fortuna che si è fatta sposare da un vecchio milionario non approvo per niente la condotta di questa ragazza aveva 17 anni era molto graziosa e poi era amata da un giovane affascinante un giornalista che così credo anch'essa amava l'abbiasimo e al tempo stesso la compiango senza essere stata costretta ha sacrificato la felicità alla ricchezza quanto a me non ho nessuna felicità da sacrificare nessuno mi ha mai amato sicché sarei assai felice di incontrare un uomo che volesse incaricarsi di me e si intende anche della mia famiglia che mi importa che sia vecchio e brutto io chiedo una cosa sola che sia ricco in cambio del suo denaro gli darei la mia giovinezza e la mia fedeltà e forse se è buono anche la mia riconoscenza signore ho pensato che voi che siete in relazione con tanta gente conosciate un certo numero di scapoli se tra loro ne trovate uno che non sappia che farsene delle proprie ricchezze e che non sia un nemico troppo accanito del matrimonio parlategli di me sposandomi farà anche una buona azione non so come se desse una dote a una ragazza virtuosa o fondasse a siri per i gatti e per i cani vi prego signore fatemi il favore che vi chiedo raccomandatemi a tutti i vecchi scapoli che conoscete e dite a quello che sarà così pazzo o così generoso da volermi sposare ho tanta paura di rimanere zitella di rivolgersi alla signorina puntini puntini segue il nome scritto per intero la ragazza mi prega poi di essere discreto perché i suoi genitori non vengano a sapere niente del passo che ha fatto ecco qua non era acclusa alcuna fotografia la lettera era scritta su fogli ordinari comuni la scrittura è molto fine molto chiara molto sicura dritta ed elegante mirabilmente ordinata la scrittura di una istitutrice forse e di una donna risoluta dopo aver ricevuto questa singolare offerta per dirla in termini commerciali ho pensato certo come scherzo è piuttosto divertente tuttavia ci sono poche probabilità che si tratti di uno scherzo ma di chi di un amico o forse di un nemico al quale non farebbe tanto dispiacere sapere quale percentuale io trarrei dal patrimonio del fidanzato a meno che non preferisse reclamare il diritto di mediazione sul capitale della ragazza si è pensato che avrei risposto subito ma sempre comodo avere in tasca documenti di questo genere vero è che questo amico o questo nemico sconosciuto ha un'opinione molto ristretta della mia delicatezza ma bisogna convincersi per principio che gli altri ci giudicano sempre peggiori o migliori di quel che siamo questo qua mi giudica peggiore ecco tutto e mi deve aver giudicato anche molto stupido questa riflessione mi ha fatto venire un po' di dubbi che cosa credeva che sarei caduto a capofitto in una trappola così grossolana sperava forse che gli avrei chiesto un appuntamento ma perché allora non adoperare la vecchia formula che rimane la migliore signore voi siete il più grande scrittore del secolo non saprei esprimere quale frenetica ammirazione nutra per voi vorrei tanto vedervi toccarvi con le mani guardarvi gli occhi ditemi volete ho vent'anni sono bella rispondete fermo posta Madeleine per quanto corazzato sia uno a queste cose non resiste esita invece di fronte a una formula nuova e anche bizzarra e sospetta come nel caso nostro dunque la lettera misteriosa viene da una donna perché mai si rivolge a me non sono mica il gestore di un'agenzia matrimoniale né conosco vecchi scapoli più di chiunque altro e non penso davvero ad avere la fama di uno che corra in aiuto alle vergini in difficoltà allora sì allora forse la mia corrispondente sconosciuta ha dato alla parola sposami un significato molto più largo di quello che generalmente le viene dato dalla borghesia ciò in realtà spiegherebbe tutto ma caspita ecco un compito davvero poco onorevole i mediatori di questo tipo hanno un nome particolare è davvero duro pensare che questa è l'opinione che i lettori si fanno dei loro cronisti preferiti una ragazza o una giovane donna si trova in una situazione delicata cerca un marito o un amante non sa a chi rivolgersi quando improvvisamente le viene una bella idea sicuro voglio scrivere al mio cronista preferito me lo troverà lui deve conoscere tanta gente e mentalmente soggiunse a così pochi scrupoli quella gente aspettatevi dunque cari colleghi di ricevere un giorno o l'altro una lettera così concepita signore avrei bisogno di conoscere una levatrice discreta che non tenga in particolar modo a mettere al mondo bambini vivi ho pensato che tra tutte le vostre conoscenze ebbene no signorina se si deve leggere tra le righe della vostra lettera non posso assumermi il compito che mi affidate i miei mezzi personali non mi permettono neppure di venire direttamente in aiuto alla vostra famiglia ma è anche possibile che quella povera figliuola abbia scritto la lettera sinceramente spinta dalla miseria non sapendo che fare avendo perduto la testa non avendo nessuno che l'aiuti sia detta forse quel giornalista è un bravo uomo capirà la mia situazione mi tenderà una mano le donne hanno un animo così complicato riflessioni così inaspettate mezzi così inverosimili slanci così spontanei le radici dei loro intrighi sono talvolta tanto profonde e le loro macchinazioni così semplici che diventano sconcertanti tanto sono ingenue certo è possibile è possibilissimo che questa ragazza dopo aver letto uno di quegli articoli nei quali facciamo mostra di un gran cuore si sia detta ecco il mio salvatore proprio a questa ipotesi mi sono affermato non è la più verosimile ma è la più generosa ho dunque cercato di aiutare la mia corrispondente ho fatto questa stessa domanda a tutti gli scapoli di mia conoscenza vorreste per caso sposarvi voi? conosco una ragazza che farebbe al caso vostro tutti hanno risposto ha una bella dote allora mi sono rivolto ai più vecchi ai brutti ai deformi prendevano subito una certa qualaria di sufficienza è stato allora che mi è venuta l'idea espoir supreme e supreme pensé come avrebbe detto Victor Hugo di rivolgere un pubblico appello ai vecchi scapoli non faccio il nome della ragazza non dico niente che possa farla riconoscere rimango nella discrezione più assoluta e le manderò senza aprirle tutte le proposte sigillate che riceverò per lei al mio indirizzo avanti signori ce n'è uno tra voi che senta di avere un cuore veramente generoso non importa che sia gobbo storpio o tantenne e per finire non posso far niente di meglio che citare la frase stessa della mia corrispondente in cambio del suo denaro gli darei la mia giovinezza e la mia fedeltà e forse se è buono anche la mia riconoscenza sposandomi farà anche una buona azione non so come se desse una dote a una ragazza virtuosa o fondasse asili per gatti e per cani avanti signori grazie a tutti